giornata campionato open serie b girone di al centro sportivo rondo dinamo di sesso san giovanni si affrontano sciogno tre punti classifica una sola gara giocata e out solcing con quattro punti due gare scuole in campo scuole vantaggio sogno parte bruno desto alto zaffiro la palla diventa buona attenzione alla chance la confusione c'è il gol di Marani 1-1 subito pericolosa e c'è il gol segnato da Scioglio per il 2-1 guarda dentro buona per Rugini gol 3-1 Scioglio Rosati mette in mezzo zaffiro destro mio eccolo con il piede 2 3-2 abbiamo una partita al Tissoshi Conforti campo aperto Conforti solo mette 4-2 vince il mezzo con la vittoria 4-2 di Scioglio su Outsearching siamo con Riccardo Rugini di Scioglio meno di match la bella tripletta è andata bene 4-2 poi è una partita tosta insomma Outsearching non l'ha mollato fino alla fine è vero è vero è stata una partita tosta ma abbiamo iniziato subito con il piede giusto abbiamo subito fatto gol e poi il loro partire si è infortunato ma non abbiamo abbassato mai la testa l'FC Scioglio è una squadra veramente veramente buona ha uno zoccolo duro che ormai dura da anni un mister che ci mette cuore animo tempo mi raccomando se no non ti fa più giocare parla bene sempre di lui mister Michele Puglione si si il mister Michele veramente diciamo è l'anima di questa squadra lui e il capitano sono diciamo lo spirito vero lo zoccolo duro appunto l'impronta giusta che ci dà ecco due partite due vittorie insomma avete iniziato con il piede giusto campionato difficile perché sappiamo che insomma l'open è un torneo molto impegnativo a livello tecnico alto però ci provate si ci proviamo ci proviamo vogliamo fare ancora meglio dell'anno scorso vogliamo migliorarci sempre di più ci sono nuovi nuovi innesti tra i quali sono io ma il mister sa fare il suo dovere amalgama molto bene vecchi e nuovi e ce la mettiamo tutta bene allora grazie complimenti a Scioglio e anche a te ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti